Lui è Armando, mio nipote. Lei è Elena. Non possono avere figli, sono stati lì tutti e due. Io devo solo riconoscere la bambina, poi se la prendono loro. Adesso devi fare degli esami. E se tutto va bene ci sono 8000 euro per te. Questa è la camera tua. Vorrei mettere le manine. Quanto ti do? 4000. A Monaco ho una mia amica. Appena ho i soldi vado da lei. È bello cambiare. Voglio morire per il zampa di leone che per il morso di gatto. Il nome della bambina? Sole. Non devo farla dare io. Non è colpa mia se l'hai fatta nascere prima. Mettetevi qui così è stato più comodo. Quando ero piccolo mio padre mi portava sempre in giro in macchina. Era l'unico modo per farmi addormentare. La manina la andiamo a prendere. Ti risoldi così puoi partire. Grazie. Grazie a tutti.